Su questo notevole portale digitale italiano, che si distingue per la sua vasta copertura culturale e musicale, emergono diverse sfaccettature sia dal punto di vista editoriale che estetico. In termini di forza, la relazione del sito web fa un notevole sforzo per mantenere la sua identità di leader nel settore musicale attraverso la cura selettiva delle notizie e l'approccio critico nei confronti delle nuove uscite discografiche. In particolare, il sito offre ampie sezioni dedicate alla musica italiana, internazionale e indie, oltre a rubriche sulla musica live, festival e interviste con artisti di fama mondiale. Un altro punto di forza del sito è la qualità delle sue recensioni, che spaziano da album a concerti, presentando una visione dettagliata e completa. Inoltre, la sezione dedicata alla musica popolare risulta molto attuale, con articoli e news sull'industria musicale e gli avvenimenti più significativi della settimana. Un punto debole del sito è la mancanza di una sezione dedicata esclusivamente ai videoclip, che avrebbe potuto rafforzare l'offerta multimediale del sito. Inoltre, il design del sito può sembrare leggermente obsoleto rispetto ai contemporanei più moderni, con una colorazione dominante e una navigazione meno intuitiva.